Per settimana sport siamo con Giorgio Roselli, allenatore del Ligorna. Allora Giorgio, oggi una bella vittoria, però ho notato alcune cose, quei gol che si prendono sempre all'inizio per disattenzione, come mai? È bella questa, ma non siamo ancora riusciti a risolvere un problema che abbiamo da un po'. Io penso che una squadra come la Fezzanese, che sapevamo, gioca molto la palle, partano, sono tutti ragazzi brillanti, veloci, rischiano anche un po' e ti mette in difficoltà. Sono stati molto bravi nel calcio piazzato, lo sono stati altre volte, noi stiamo subendo un po' troppo, ma onestamente abbiamo anche pochi centimetri, dunque nel calcio se tiri da una parte e si scopa dall'altra, ma potevamo andare sotto dopo l'1-1, l'ha avuta una grande occasione, però nel resto abbiamo costruito 6 o 7 palle e gol, dunque penso che la vittoria sia meritata. Giorgio, un pensiero per Marco? Beh certo, un ragazzo fantastico, ci auguriamo che non sia quello che tutti pensano e che sia solo una grossa distorsione, sapremo a breve, siamo tutti con lui. Ok, grazie Giorgio. Grazie a voi. Grazie. 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 Grazie.